Il termine sintomatico è un termine molto chiaro, cioè dimostra una persona che ha dei sintomi che per larga misura sono simili a quelli dell'influenza. Contagioso, ecco direi che è un termine improprio, il termine di contagium vivum fluidum, quindi contagio è qualcosa che si diffonde, ma visibilmente visivo. Quindi quando noi parliamo di contagiati, usiamo un termine improprio, noi dovremmo parlare di soggetti positivi al test e oggi il test che fa ancora riferimento è il cosiddetto tampone molecolare, ma presto avremo a che fare con altri test, direi che dal punto di vista clinico più efficaci, quelli di ricerca antigenica, quelli rapidi, quelli salivari. Ci sono i positivi che contagiano, i positivi che non contagiano. Positivo non vuol dire malato, quindi questi termini la gente deve comprenderli bene. La domanda che uno dovrebbe porsi, ma ha senso inseguire e tracciare gli asintomatici che sono la maggior parte, con che tentativo? Di azzerare il contagio? È dal punto di vista razionale un non senso, dal punto di vista scientifico non perseguibile e non giustificabile, e dal punto di vista pratico, con gli attuali tamponi, penso che la gente vede la fila dei drive-in a Roma, a Milano, e con i tempi medi di risposta, che al sud sono di 5-6 giorni, da noi arrivano 2 giorni, ma mediamente sono 4 giorni, lei capisce che non impatta su un'infezione che ha un tempo di incubazione di 1-2 giorni e mezzo. Lei cosa pensa? Che potrebbe succedere che lo Stato dovrà chiudere l'Italia per Natale, oppure lei pensa che se fatto bene le cose possono coesistere e stare attenti al Covid e nello stesso tempo non intaccare l'economia? Crisanti è un mio allievo, nel senso che accademicamente l'ho chiamato io da Londra, non è un virologo, non ha mai pubblicato un lavoro di virologia, ma devo dire che negli ultimi 10 anni non ha neanche pubblicato un lavoro di microbiologia, ho fatto una certa difficoltà a chiamarlo, dico le cose per quello che sono, ma è un esperto di zanzare, una persona che fa queste predizioni, questi sono di PCM, di pseudovirologi, fa anche lui il suo decreto della Presidenza della Repubblica e sciancisce un lockdown, io mi domando ma a che titolo? E poi su che base? Ecco, l'unica cosa che ci deve mettere in guardia è questo aumento esponenziale del virus che dobbiamo assolutamente ridurre, ma chi ce lo può dire se faremo un lockdown? Io penso che andremo e saremo costretti a fare, casomai, dei lockdown ristretti nello spazio-tempo, quando saremo in grado di bloccare delle singole esplosioni, ma un lockdown, ormai lo dicono tutti, l'hanno capito tutti, un lockdown generalizzato questo Paese non se lo può permettere.